Belen Rodriguez, questo è l'unico pensiero fisso degli italiani. Intanto ci sono esodati, l'informazione non ci ascolta. Siamo in mano ad agenzie interinali ed è questo il nostro futuro. Io dico che allora il futuro non c'è. Bene, quale occasione migliore di questa per camuffare questo video e lanciare il mio appello, l'appello di un italiano stanco, stanco di questo governo, stanco di questa politica, ma non solo, anche stanco di questo popolo che rimane a lamentarsi, ma fermo. Questa è la realtà. Siete un popolo fermo, che è complice di questa dittatura, è complice di questa corruzione. Bene, fate girare questo video e ascoltate bene un italiano che si è rotto i coglioni. Se non sei parte della soluzione, allora sei parte del problema. Con questo scritto mi riprendo la mia sovranità popolare. È vero, viviamo in un regime europeo, ed è altrettanto vero però, che parte del popolo è stato complice, ma i vari governi, compresi quelli italiani, sono solo pedine e marionette, usate per sottomettere i popoli. Detto questo, e tenendo conto che, quelli come me vengono ritenuti antipolitici e sovversivi, chiedo allo Stato italiano, che ha fatto della propria bandiera l'illegalità, di arrestarmi, per istigazione alla giustizia. Lo chiedo perché è evidente il mio continuo contestare un metodo anticostituzionale e antidemocratico di agire da parte delle istituzioni. Per non parlare poi dell'informazione, deviante, che ascolta solo assassini e politici, corrotti. Fatelo, fatelo ora, o vi giuro che darò la mia vita per oppormi a quello che ritengo un arrogante e indegno modo di gestire quella che voi chiamate libertà e democrazia. Io sono strumento per un reale cambiamento. Potete bloccarmi, ma io sento, vedo e parlo. E voi soccomberete davanti alla forza di un solo uomo. In fede, Mauro Mermino, un cittadino italiano.